Bene amici se questo video arriva a 5.000 like farò un video dove cercherò insieme a voi e reagirò alle curiosità più spaventose che si trovano sul web Mi raccomando 5.000 like per le curiosità più spaventose del web Ciao amici e benvenuti finalmente in questo nuovo video Come molti di voi già sanno purtroppo sono risultato positivo al covid Da giovedì ufficialmente quindi fino a giovedì prossimo dovrò stare a casa prima del secondo tampone Oggi è il primo giorno che la voce mi permette di registrare un video anche se non sarà la mia solita voce Perché purtroppo sono ancora un po' tutto attappato però non potevo aspettare ancora Cioè avevo proprio voglia di venire qui e registrare un video Questo video sarà diverso e andremo a reagire alle mie curiosità quindi ai miei primi video però Mamma mia che ansia terribile Io sono già sulla schermata di tiktok Scorriamo 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 e andiamo a vedere i primi video quali sono Allora intanto vi faccio vedere il mio primo video su tiktok Che era... si stavamo in quarantena è questo Outfit ai tempi del coronavirus Mi sembra che avevo visto... non so se è un link o qualcosa che mi ha fatto ridere E quindi ho detto io faccio un video su tiktok E qua vedete i commenti dove inizia una leggenda Sin dal primo si capisce che sei una grande persona La leggenda inizia qui Questi commenti sono arrivati poi a maggio quando ho iniziato a caricare i primi video curiosità Che sono andati virali E quindi i ragazzi poi sono andati in fondo e hanno commentato il primo video Vediamo questo Io non so perché ma la quarantena purtroppo ci ha fatto fare delle cose proprio Vi faccio vedere, vi faccio vedere Passiamo direttamente alle curiosità Oppure... questo qui ci ho messo tantissimo a farlo Che secondo me è anche bello Però non ha riscosso il successo che meritava Anche perché 88.000 che vedete adesso sono le views che ho fatto poi Sempre con la questione della viralità Ma io adesso andrei direttamente alle curiosità Allora... questo qui è il mio primo video che andò virale Diciamo che è curiosità ma non era classifica, non era top 5 Era soltanto una curiosità E comunque è questa Se tu avessi guadagnato 170.000 euro Senza cappello sono orribile Jeff Bezos, il fondatore di Amazon Sarebbe comunque più ricco di te Allora, questo video è intanto senza cappello Ma poi non è soltanto il fatto senza cappello Ma con il ripresa grandangolare Sembra che ho la capoccia allungata Non è così, non ho la testa così brutta in realtà È la ripresa grandangolare che tende a distorcere Quindi sembra che ho questa testa strana Ma non è così Vediamo i commenti più belli Ora me lo sposo, giustamente Io me lo meritavo un conto in banca così Dice Nico, l'ho stressato Ma adesso direi di andare avanti E iniziare finalmente con le prime classifiche curiosità E io direi di partire da questo qui Il primo Se cerchi su Google il numero 241.543.903 Troverai le foto di gente che mette la testa nel freezer Fermi tutti, fermi tutti Fermi tutti perché mi ero dimenticato questa cosa Allora 241.543.903 Invio Eccole qua Le foto di gente che mette la testa nel freezer Adesso voi direte perché È la cosa che mi sono chiesto io Perché Allora Se vi state chiedendo il perché Vediamo qual è la storia dietro Non so adesso se questa fonte è affidabile o meno Però questo dice Allora il meme Head inside the freezer È iniziato il 6 aprile 2009 Quando un famoso artista americano David Horvitz Ha pubblicato su social network Una foto con la testa nel congelatore Il titolo 241.543.903 La gente si chiedeva cosa significasse veramente il numero Pochi giorni dopo ha pubblicato Un altro stato con le istruzioni Voglio provare un esperimento con la ricerca su Google Ho appena fatto una foto Ok quindi è nato per gioco Un meme E poi tutti hanno continuato Un po' come nascono i trend di TikTok Però è assurda sta cosa Andiamo avanti Le tue labbra non si uniscono quando dici la parola unite Ma si uniscono quando dici la parola separate Unite Separate Mamma mia le so tutte Se pensi al tuo cervello È come se il tuo cervello pensasse a se stesso Fino ad ora hai respirato automaticamente Adesso che te lo sto facendo notare Stai respirando pensando di farlo È terribile Questa è terribile Io la prima volta che lessi questa cosa su internet Non mi ricordo nemmeno quanto tempo Ci ho messo poi a recuperare sta respirazione automatica Perché ero lì Sì ma adesso il respiro automatico quando riparte Dai mi è ripartita Mi è partita la respirazione manuale È terribile ragazzi È terribile Non ci sono evidenze scientifiche che oggi sia davvero sabato Abbiamo iniziato a contare i giorni Quando qualcuno ha deciso che andavano contati in questo modo Se cerchi su Google Il numero 200 Onesto Andiamo avanti Ma il cervello ne scude la visione Se muori in un sogno ti svegli immediatamente Perché il cervello non sa cosa c'è dopo la morte Le banconote non sono fatte di carta Ma di cotone o canapa Nel corso della nostra vita perdiamo circa 20 kg di pelle Le giraffe non hanno corde vocali I nostri occhi vedono continuamente Ok Sta cosa che se muoio mi risveglio mi fa sentire Gesù Io quando muoio in un sogno rinasco nel Gulag Non leggere il mio nome Amo quindi posso fumermi nel banconote Ormai tutte le volte che vedo la faccia respiro manualmente Riferito al video di prima giustamente Ok stavamo qui Passiamo al prossimo I sedili dei water sono più puliti del tuo cellulare Con un bacio di 10 secondi si trasmettono 80 milioni di batteri Nel tuo letto vivono in media dai 100 mila ai 10 milioni di acari della polvere Se il sole esplodesse in questo momento tu non lo sapresti per altri 8 minuti In questo momento su ogni centimetro della tua pelle vivono tantissimi insetti microscopici Il loro lavoro è mangiare la tua pelle morta Ci sarà un giorno in cui qualcuno ti menzionerà per l'ultima volta Mamma mia che tristezza Dopodiché nessuno si ricorderà più di te Che tristezza l'ultima Però è vera se ci pensate Adesso io vi voglio far vedere un'altra cosa Vi voglio far vedere quanto sono carini I Demodex Eccolo qua amici Questo è il Demodex Guarda quanto è carino Guarda quanto è carino Andiamo avanti dai Andiamo avanti E andiamo Queste 4 curiosità su Jeff Bezos Fondatore di Amazon Guadagna 2489 euro al secondo 149.353 euro al minuto 215 milioni di euro al giorno Si stima che un laureato statunitense guadagnerà nel corso della sua vita 2,2 milioni di dollari Bezos li guadagna in meno di un quarto d'ora Pensate che con i suoi soldi potrebbe comprare una Porsche Panamera a tutti gli abitanti di Milano Se volesse spendere tutto il suo patrimonio in un anno Dovrebbe spendere 424 miliardi di dollari al giorno Ovvero 17 milioni di dollari l'ora Jeff Bezos Qua avevo sbagliato perché era Il fondatore di Amazon Milioni di dollari al giorno non miliardi E io che conto i centesimi Che prendo per gli straordinari Io Jeff mi presti 149.353 euro? Si Aspetta un minuto Gli basterebbe un secondo per donare tutto Quindi può chiamare Ronaldo A fargli pulizia a casa E single Che bella vita Io ho 10 euro nella cover Comunque i commenti di TikTok Secondo me sono sempre i commenti migliori Perché Non ho sempre fatto divertire Divertire E andiamo avanti Queste sono le domande Queste sono le domande senza risposta Dove va un pensiero quando viene dimenticata? Che forma ha il tuo campo visivo? Cosa sentono le persone nate sorde quando pensano? Come fai a sapere che non sei pazzo e la tua vita è tutta un'allucinazione? E se la realtà non esistesse al di fuori della tua testa? Di che colore è uno specchio? C'è stato un tempo in cui nulla è esistito o qualcosa è sempre esistito? I ciechi possono sognare? Se ti piace perdere tempo è davvero tempo perso Qual è lo scopo di stabilire obiettivi se poi alla fine moriremo tutti comunque? Ma soprattutto perché stai guardando questo video proprio in questo momento della tua vita? Perché stai guardando questo video su YouTube in questo momento della tua vita? Non c'è una risposta proprio Mi esplode il cervello, mi esplode Perché è vivo? Dice Matteo Perché? Perché? Scusate Si è sentito preso in causa Google? Perché è vivo? Oh che ansia Beatrice Vendramin dice Di base ti odio dopo questo video Ciao mi chiamo Ansia e infetto i tuoi follower Ok andiamo avanti dai Italiani Gli abitanti di Churchill in Canada lasciano le loro automobili aperte per offrire rifugio a chi dovesse scappare da un orso polare I canadesi sono i più grandi mangiatori di maccheroni al formaggio al mondo Hanno l'abitudine di utilizzare in maniera eccessiva la parola scusa Molte volte infatti si scusano anche se non hanno motivo di farlo In Canada c'è una pista di atterraggio per gli UFO Il Canada è l'unico paese al mondo in cui più della metà della popolazione ha un titolo di studio universitario Italiani Italiani Infatti lei poi Non so se la conoscete questa ragazza che faceva sempre italiani Iniziava tutti i video così Mi ha commentato il video Ah sto morendo Praticamente mi ha confermato Che le curiosità Sono vere E poi ha fatto anche un Un video reazione Ha fatto un video reazione dove faceva vedere delle cose Tipo la macchina aperta fuori Stava divertente Stava divertente In Italia neanche i politici hanno il titolo universitario In Italia se lasci la macchina aperta l'unica certezza che hai è di non ritrovarla In Italia mettono il lucchetto anche alla bici per sicurezza Voi se scherzate ma io lo metto al monopattino elettrico Io il monopattino elettrico non l'ho mai lasciato Senza una catena Lo rubano sicuro al 100% La prima volta che lo lascio lo rubano Andiamo avanti Ad oggi segue soltanto una persona su tiktok Quella persona sono io Fierezza Ecco anche io adesso Grazie Vediamo cinque volte più belli di come siamo in realtà Chiedo umilmente scusa Scusa a tutti Chiedo proprio scusa Andate a vedere Vasco Rossi Se non ci credete Ho scritto Questo non è il mio account principale Dal quale sto ecco Perché non mi dice che siamo amici Però Vi metto adesso Anzi Cos'è che faccio? Qui si può vedere Che siamo amici Attimo che metto a fuoco Non so se si vede ragazzi Perché purtroppo Da qua senza occhiali Non riesco proprio A capire se metto a fuoco o no Ok Adesso sembra di sì Ok Eccomi qua Ma perché? Perché? Cosa parti? Anche meno Google Allora andiamo avanti Che non sai sugli Stati Uniti C'è Negli Stati Uniti Indio vetti kinder Sono illegali In 19 stati americani È illegale la punizione corporea Nelle scuole pubbliche Nel Connecticut Ad Hartford È illegale baciare La propria moglie di Domenica Il colore originale Della Stato della Libertà È rosso In Nietzsche Rosso nel senso rame Dal rosso al verde Qua dice La Stato è realizzata in rame Cigan alle donne È vietato tagliarsi i capelli Senza il consenso del marito In Arizona È vietato giocare a carte per strada Con un indiano Cinque cose Elena Zina Che mi ha fatto l'intro Dopo questo Mi sento di non aver mai conosciuto Questo posto Pazzesco È illegale poter picchiare I bambini a scuola Ma non sono illegali Gli ovetti kinder Gli ovetti kinder Sono illegali Perché in America Non si può vendere cibo Con materiale non commestibile All'interno I bambini potrebbero soffocare Esatto Brava Giusto Andiamo avanti Un altro video di domande A cui forse non saprei rispondere E Dio ha creato Adam e Teva Avevano l'ombelico Quando smette di essere parzialmente soleggiato Inizia a diventare parzialmente rumoroso Quando producono un nuovo cibo di cani più gustoso In realtà Chi lo ha assaggiato? Perché la terza lancetta di un orologio Si chiama lancetta dei secondi? Impariamo e miglioriamo dai nostri errori Perché abbiamo così paura di sbagliare? C'è una fine all'universo? O continua Se ci siamo evoluti dalle scimmie Perché ci sono ancora le scimmie? Se le pizze sono rotonde Perché vengono messe in scatole quadrate? I pinguini hanno le ginocchia? Com'è possibile che il mondo sia in debito? Ma soprattutto con chi? Sì I pinguini hanno le ginocchia L'ho scoperto dopo questo video Adesso le faccio vedere Vediamo se riesco Eccole qua Ma lo sapevate? Lo sapevate? Secondo me no Non dire sì Secondo me no Vediamo i commenti Queste domande mi hanno fatto esplodere Le pizze sono rotonde Messe in scatole quadrate E le mangiamo a triangoli Giusto Voglio le risposte Ora mi esplode la destra La mia faccia per tutto il tempo Ok Andiamo avanti Cioè senza senso Dare da bere ai pesci Senso c'ha Non c'ha senso raga Non c'ha senso Quindi se faccio un infarto in Parlamento Mi risveglio Ti arrestano Ti condannano a morte Ok Riprendiamoci Poi c'è quello sull'ipocondria Ce ne sono altri Ma io Mi fermerai qui Abbiamo ancora Tantissimi video A quali poter reagire Io spero che questo video Vi sia piaciuto E se volete la parte 2 Fatemelo sapere Con un commento qui sotto Io per il momento Vi ringrazio Di aver visto questo video E noi ci vediamo Al prossimo Ciao ragazzi Ciao